Faccia della risibizione, verrebbe da dire, con le botte che vi tiravate. Beh, sicuramente il campo molto veloce non aiutava, era una giocatrice grande, molto potente, non è facile, io ero molto emozionata e niente. Tanta gente, è qui per il doppio ancora. Sì, sì, ora tra pochi minuti giocheremo il doppio e speriamo vada meglio. A dopo. Grazie.